I panciatichi si convinse all'epoca, non si sa quanto vero o meno, si convinse che l'architettura e l'arte islamica fosse superiore a quella cristiana e occidentale per il fatto che non potendo raffigurare la divinità e nemmeno i profeti, avesse sviluppato al massimo grado l'astrazione geometrica, il fitomorfismo e quindi tutte queste geometrie, questi intrecci, questi racemi per dire che sono tipici, caratteristici, quanti di voi hanno viaggiato all'estero, sono stati a Gesù Salerno o in India sicuramente avranno riscontrato questa peculiarità dell'arte islamica e qui noi lo possiamo già ammirare e un altro aspetto che vale la pena di menzionare nel mentre siamo qui prima di dirigerci verso la palazzia di Caccia è la presenza di questo Ivan, che sarebbe il torrione monumentale centrale che è stata una delle ultime realizzazioni del castello credo sia finita nell'89 o nell'87, poco prima che Panciatichi morisse inizia l'86 e finisce l'89 ecco inizia l'86